No, voglio prima sentire Gianluca cosa hai detto, cosa hai detto sul presunto fallo di Acqua. Cosa hai detto Gianluca? No, lo vado a prendere così, ripeto più o meno le cose che ho detto prima. Ho detto che questo fallo dieci anni fa non l'avrebbero fischiato, anzi, questo intervento dieci anni fa non l'avrebbero fischiato, ma visto che i regolamenti cambiano e vengono costantemente. Ma che regolamento è se lui tocca la palla, non ho capito. Scusa mica, non ho capito se vuoi sapere che cosa ho detto o se vuoi interrompermi per No, ma io ti dico subito quello che ho detto. Allora non chiedermi di dirti quello che ti ho chiesto. Ma io ti sto dicendo, ti sto contestando subito quello che hai detto perché hai detto una bestemma, perché questo non è fallo, questa è palla pulita, questa è palla pulita, perché si vede da tutti che era una palla pulita, che non era fallo. Allora se mi fai... Tu, dove tocca a lui? Guarda, guarda. Poi, normale, come fa a fermarsi lui? Tocca la palla pulita, poi incevolata, prende lui, ma è palla pulita. Ma di cosa stiamo parlando? Se vuoi te lo rispiego, Sinisa, quello che ho detto io. No, ma non lo devo rispiegare, perché è chiaro. Facciamo parlare di tutti e due. Mi ha invece espresso il suo punto di vista, ha arrabbiato, è critico. No, no, no. La leggera metterale, Luca Viali sta provando a esprimere invece il suo. No, 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 non mi interessa. Facciamo un bel contraddittorio. Aspetta, perché se non gli interessa, se non gli interessa, Sinisa, non ho capito perché me l'ha chiesto, però... Sì, sì, ma ti ho chiesto solo per capire, per ripetermi quello che hai detto prima, ecco, ma non mi interessa altro perché non voglio ascoltarti. Ah, vabbè, allora non interessava così. Allora, non mi fai delle domande, se non voglio ascoltare la mia risposta. Sì, andiamo avanti, se non interessa, possiamo andare oltre. Sinisa, no, volevo solo dire una cosa, Sinisa, non è che chi non è d'accordo con te o chi esprime un'opinione sia sempre dalla parte del torto. Ma io non sto dicendo che tu devi essere d'accordo con me, io dico solo che tu, visto che stai là in televisione, dovresti essere da parte, tutto, non dire certe cose che non stanno in cielo e terra. Perché tutti abbiamo visto che non era fallo, sei un unico a te che dice che era fallo. Perciò questo che io ti chiedo, niente altro, essere solo corretto nei tuoi giudizi. Perché a me non rimane che tu mi dici, ma non sei corretto. La correttezza però mia, invece, non è la metterla in discussione. No, ma non solo la correttezza, la professionalità è la possibilità di poter dire quello che uno pensa. Ma poi se io secondo me, tu hai detto quello che pensi, io ho sentito e io ti ho risposto quello che era giusto di rispondere. Allora, diciamo che per lei non è corretto quanto ha detto già. Tu pensi che non era fallo, io penso che è fallo e basta, finisce tutto là. Perfetto, quindi ognuno ha la sua opinione, ognuno ha la sua opinione, però io non posso star zitto sento uno che dice che non era fallo.